Milano, 25 novembre 2011. Fiera internazionale Step 09. Nella prestigiosa location del Museo Nazionale Leonardo da Vinci, Giorgetti, l'erede di Rotko, presenta la sua prima opera Social 2.0 della storia dell'arte mondiale. L'opera, dal semplice titolo Frame 100, a primo impatto sembra una normalissima tela dedicata all'astrattismo americano degli anni 50. Ma osservando bene, viene fuori la genialità dell'astrattista, che in realtà ha creato una complessa struttura composta da 100 minitele vendute singolarmente in frame, ponendo l'arte alla portata di tutti. In un primo momento, incompresa dagli addetti ai lavori, Frame 100 fa ricredere tutti. I frame diventano richiestissimi e uno alla volta vengono venduti con una rapidità inaspettata. Frame 100, l'idea geniale e creativa di Giorgetti, che ha dato una scossa alla crisi dell'arte contemporanea, viene citata nei forum di tutto il web, condivisa sui social network, sui blog Rai e su siti d'arte di tutto il mondo. Frame 100 è un capolavoro costato 2200 ore di lavoro che si è dissolto in un solo giorno, creando e muovendo un mercato di 100 nuovi collezionisti. 100 mini capolavori che vagheranno nel mercato mondiale dell'arte per sempre. 100 frame numerati che non saranno mai più riprodotti e che sono già ricercatissimi. Un'opera che continuerà a esistere nella sua integrità solo in una litografia, mentre 100 mini frame sono già sparsi in tutto il pianeta. Frame 100 di Giorgetti e la storia.